Sì signore, ci potrebbe spiegare il motivo di questa manifestazione? Il motivo di questa manifestazione e soprattutto di questa mia presenza qui è dovuto al fatto che si sta cambiando la Costituzione senza far intervenire o dare la parola al popolo. Ora io, che ho tutta un'esperienza professionale svizzera, quando c'è un cambiamento della Costituzione, di una legge, il popolo è chiamato ad esprimersi, a dare il proprio parere. Ecco, nel caso dell'Italia tutto questo non c'è. E questo mi dà fastidio, mi fa paura, perché questo è la porta aperta ad un sistema autoritario che rischia appunto di tirare, di fare andare l'Italia verso, non dico il fascismo, ma uno Stato autoritario di cui io abborro completamente.